L'insegnamento trasversale dell'educazione civica che decorerà dal prossimo anno scolastico mira ad ottenere delle competenze, capacità e conoscenze da parte degli studenti su tutti quei temi che, in una società complessa come la nostra, concorrono alla formazione globale dell'individuo. L'educazione alla cittadinanza, la comprensione delle strutture e dei profili sociali e economici giuridici e ambientali e civici sono tanti i temi posti da sviluppare in maniera coerente nel curriculum perché si vuole che l'educazione civica diventi un punto di riferimento per tutte le altre discipline. Occorre prepararsi allenandosi alla flessibilità. Questo è lo scopo principale di questo corso, allenarsi alla flessibilità per riuscire a far emergere delle tematiche che sono già presenti all'interno della programmazione, per interconnetterle fra di loro valorizzando l'interdisciplinarietà. Parleremo quindi di educazione alla cittadinanza partendo dall'educazione ai diritti umani, parleremo di legalità e democrazia partendo dall'etica della responsabilità per sviluppare il senso di appartenenza a una comunità locale e anche globale e per diventare cittadini responsabili, sì, ma anche consapevoli. Parleremo ancora di ambiente, salute e benessere, alcuni degli obiettivi principali dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Queste competenze potranno essere applicate in contesti differenti, in combinazioni diverse, perché sono tutti fra di loro sovrapponibili e interconnessi. Vi aspetto!